Musica Occhi ai giornali, buongiorno, benvenuti all'appuntamento con l'informazione in diretta alle 7.30 di ogni mattina da lunedì al sabato sul canale 17 di Fano TV Un cordiale saluto anche a coloro che ci seguono in replica oppure sul sito internet Occhianotizia.it Cominciamo dal Santo del Giorno Oggi la Chiesa Cattolica ricorda Sant'Andrea Apostolo E' un santo, se non è santo lui, insomma E' il discepolo di Giovanni Battista E Andrea, Andrea fu crocifisso a Patrasso Appeso con funi a testa in giù Secondo una tradizione a croce a forma di X Chiamata poi Croce di Sant'Andrea E' particolarmente venerato nella Chiesa greca Il sole è sorto alle 7.21, tramonterà alle 16.36 minuti Vediamo adesso il tempo con le previsioni dalla Protezione Civile delle Marche Che per la giornata di oggi prevedono cielo sereno o al più poco nuvoloso Le temperature sono ancora in diminuzione Fa molto freddo questa mattina, siamo intorno ai 4 gradi Alle 7.30, perlomeno qua vicino alla costa Poi i venti sono di brezza leggera da nord Durante la notte e al primo mattino Attenzione alle gelate diffuse In particolare nei fondovalle e nelle zone pianeggianti Per la giornata di domani Più o meno abbiamo sempre un cielo poco nuvoloso Con venti di brezza leggera Le temperature in aumento nei valori massimi Per venerdì 2 dicembre Ancora cielo sereno poco nuvoloso Anche qua le temperature continueranno a salire La tendenza invece per i prossimi giorni Ancora tempo stabile e soleggiato per sabato Seguito da un debole temporaneo peggioramento Per la giornata di domenica Poi di nuovo condizioni stabili e soleggiate Il problema dell'attraversamento delle strisce pedonali Ci sono stati altri due studenti investiti Per fortuna nulla di grave Siamo sul resto del Carlino di oggi In via Solferino è andata bene Sono troppi però gli attraversamenti Scrive il giornale a rischio vicino alle scuole Il titolo è Le strade pericolose Però tengo, ripeto, spesso Torniamo su questo argomento delle strisce pedonali Le strisce pedonali non vanno prese d'assalto Nel senso che uno quando arriva Non è che per diritto divino Prende e deve attraversare qualunque cosa accade Perché molte volte, spesso A parte gli studenti Adesso non conosco la situazione nello specifico Probabilmente è così È pericoloso e bisognerà metterli in sicurezza Però spesso gli studenti sono distratti C'è un telefonino Chiacchierano con gli amici Attraversano come se fossero in pieno pascolo Insomma non è così Anche gli adulti, anche gli anziani Spesso si attraversa e sembra che uno ha il diritto divino di passare in qualsiasi momento Non è così Anche quando si è sulle strisce pedonali bisogna arrivare, aspettare E poi che la macchina si ferma Non è che uno prende, entra e si butta letteralmente sulle strisce pedonali Perché se no non va bene Allora, sanità, mobilità passiva da record L'altro titolo sotto la testata Del resto del Carlino È la grande distribuzione Fa pubblicità alla Romagna Servizi più veloci e meno costosi Scrivono Truffe online Una valanga di denunce Che però non bastano Oltre 140 casi all'anno Questi sono i titoli delle notizie più importanti Sulla prima pagina del resto del Carlino Sulla pagina di Fano invece l'allarme sul gioco d'azzardo Slot, sconti e tasse a chi rinuncia Anche qui a Fano È sempre più diffuso purtroppo Questa piaga delle slot machine Delle macchinette mangiasoldi Dal Comune ci sono adesso agevolazioni Per acqua, tari e tasi A quegli esercenti che decideranno Di rinunciare ad avere queste macchinette Che va detto chiaramente Risanano spesso i bilanci Dei bar Soprattutto quelli che non hanno un grande giro d'affari Che vivono con qualche colazione Con qualche aperitivo Queste macchinette mangiasoldi Risanano i conti Di questi esercizi commerciali Di questi esercenti Di questi baristi Però poi Mandano in rovina Spesso intere famiglie L'assessore Borini Regolamento pronto E fondi Aset Chi non installa macchine risparmia Venerdì il convegno al Cinema Masetti Sotto invece l'addio oggi a Marco Maggioli L'ex amministratore fanese Che da 15 anni combatteva Contro la sclerosi laterale amiotrofica La SLA si è spenta Nella serata di domenica Ieri mattina la Camera Erdente All'obitorio di Fano Oggi pomeriggi funerali Alle ore 15 Nella chiesa di San Paolo Nel quartiere Vallato Di Fano Strade e danni Del sisma Ecco i soldi Nuove opere pubbliche Per un milione e 400 mila euro Dal comune E poi superstrada Disagi per il traffico All'altezza di Bellocchi Sembra che venga aperto Un nuovo cantiere Ancora devono finire l'altro Che sta facendo innervosire Una marea di gente Che continua ad imbottigliarsi Nel tratto da Bellocchi O meglio da Lucrezia Bellocchi In direzione Fano Pare da quello che si capisce Qua dal giornale Che da oggi Fino a prima di Natale Ci saranno Altri lavori Sempre sulla 73 bis Quindi sulla superstrada Per circa 3 chilometri In corrispondenza Dello svincolo di Bellocchi Da oggi Mercoledì 30 novembre Fino al completamento Degli interventi Previsto entro il 22 di dicembre Dunque in superstrada All'altezza di Bellocchi Insomma Piove sul bagnato Radio Veronica Radio Veronica Nell'orbita di RTL 125 La storica emittente Pesarese Potrebbe essere Assorbita totalmente Si parla di Adesso di Cessione Di frequenze Ben 22 22 frequenze Alla più grande radio Private italiana Cioè RTL 102 E5 Dunque dovrebbe E potrebbe Scomparire Questo marchio storico Fondato nel 1976 Dunque 40 anni Fa Adesso c'è C'è Questa Questa possibilità Pareva che Insomma Fosse rilanciata O l'intenzione Era quella di rilanciarla Almeno quella Che aveva in testa Claudio Patassi Anche di Radio Gold Però evidentemente Poi queste trattative Con Milano Non sono poi Finite State chiuse del tutto Quindi Bisognerà capire Quale sarà il futuro Adesso di questi 12 ragazzi Che stanno all'interno Di Radio Veronica Che continuano a lavorare Che stanno tentando In qualche modo Di rilanciarla Rimaniamo a Pesaro Perché C'è questa iniziativa Guardate che bella fotografia Che colpo d'occhio Straordinario Siamo all'interno Del vecchio palazzetto Dello Sport Gremito per la cena solidale È una Bella Serata Che c'è stata Che c'è stata A Pesaro Addirittura Una sfilata In stile Olimpiadi Insomma Le società Ci credono Vecchio palazzo Strapieno Sfilata olimpica E cena solidale Ricci Il sinago di Pesaro Isulta C'era anche Il portabandiera Filippo Magnini Che dice Ha detto Sono orgoglioso Di essere pesarese E di essere Qui E in 4.000 Infilati nel palazzetto Dello Sport Come Sardine Ben oltre la capienza Il sindaco Conferma le nostre Anticipazioni A marzo Cominceranno I lavori Adesso andiamo Sul Corriere Corriere Adriatico Eccolo qui Sfila l'orgoglio Dello Sport Anche qui L'apertura Per Magnini Capitano dei 4.000 1991 società Quindi c'erano Tutte le società Sportive di Pesaro Una bellissima Iniziativa Atleti Tra piazza E hangar Per celebrare L'investitura europea Perché lo ricordiamo Pesaro È città europea Dello sport E della solidarietà Poi la fotografia Invece A centro pagina È per Le consigliere Le consigliere donne Della regione Marche Il simbolo Però Dimenticato Dalle consigliere In regione C'è stato il dibattito Sulla violenza Contro le donne Ma solo una donna Una di loro Ha indossato Il fiocco bianco Sono più importanti Progetti Azioni Che i simboli Evidentemente Comunque Forse è un po' Anche per giustificarsi Guardate Il titolo Tra l'altro Ero presente Anch'io Ieri mattina Mentre questa Signora Sì Era lei Credo di sì Insomma Una di queste signore Che ha affermato Il sindaco Matteo Ricci Che ieri mattina Come tanti sindaci italiani Era a Pesaro Nella sua piazza Nella sua città Per fare Propaganda Per il referendum Una signora A un certo punto Lo avvicina In maniera anche Molto simpatica Insomma dice Ti voglio bene Ma non Voto no E si parla anche Di mercato Matteo Ricci Fa propaganda Al San Decenzio Mille sindaci Del PD In tutta Italia Hanno raggiunto 100.000 indecisi E bisognerà capire Se poi Gli hanno convinti A votare O a cambiare idea Nel frattempo Comunque Nel freddo Accompagnato dagli assessori Scambi effettuosi E dialettici Con i pesaresi La polemica Poi con Virginia Raggi Era al mercato Dove si è collegato Anche con Ieri ha avuto Due collegamenti Con La Sette L'emittente nazionale Di Cairo Spesso In questi giorni Matteo Ricci Lo si vede In televisione Sulle tv nazionali Il PD fanese In campo In campo si divide Anche sul Sia Referendum Due comitati Fichera Sensibilità diverse Moltiplichiamo Gli eventi Siamo alle ultime battute Di questa campagna Referendaria Venerdì La chiusura della campagna Con Orfini Ma salta Il dibattito Con il No E vedete Sotto il comitato Guidato da Alessandro Fichera Con la generazione Dei quarantenni Ok Questa è la fotografia E la pagina La pagina 3 del Corriere Guardate questo cinghiale Invece che attraversa La strada Mentre sta per passare Un'automobile Cinghiali e Daini In strada Torna l'incubo Al volante Il progetto Life Strade È a rischio Con il passaggio Del CRAS Alla regione Il piano Fermato dalla provincia Dall'Unione Europea Dal centro di recupero Animali Selvati Ci ha dato Negli anni Ottimi Risultati Dalla pagina Di Pesero E provincia Pesero primo piano Treno per Urbino Ora si può sognare Ancora Questo Progetto Del Del treno Che c'era un tempo Ma che adesso Non c'è più Il governo Stanza 210 milioni Per Matera L'associazione Ferrovie Valle Metauro Ecco la strada Che dobbiamo seguire Necessarie le sinergie Tra tutte le forze politiche Per ripristinare la tratta Da Fano Bastano 90 milioni Come se fossero Bruscolini Ma insomma Non so In questo periodo Difficile parlare Di così tanti soldi Per opere Che sì Siamo tutti d'accordo Sono tutte belle Ma credo che Occorra Una scala Delle priorità E poi vedere A che punto Inserire Il treno Rispetto ad altre priorità Poi sono tutte belle Il Comune Finanzia investimenti Per 1,2 milioni Di euro L'assessore Presenta la variazione Di bilancio Le voci principali Per strade E Palazzo Nolfi Interventi anche Per spiagge Lungomare E terremoto Già dati I contributi Al carnevale Si realizza Un modello Policentrico Ma privato L'attivista Mariotti Parliamo di sanità Pone stringenti domande Sulla riforma regionale Questa è la pagina Di Fano del Corriere La pista dei Grattevinci La cronaca Si esaminano adesso Anche i filmati I carabinieri Indagano Sull'ultimo ride In azione Una banda di professionisti Che evidentemente Punta Sui Grattevinci C'è un mercato parallelo Un mercato clandestino Di rivendite Non si sa Poligioni Di Fratelli d'Italia Lamenta Le scarse risorse Date alle forze Dell'ordine Poi Un'auto Che per un colpo di sonno Finisce contro Un'altra macchina Rintracciato Il proprietario L'autista Il conducente Singolare incidente Nella notte Tra domenica E lunedì Protagonista Un quarantenne Fanese Responsabile Appunto Di questo Scontro Un albero Per ogni bambino Il sindaco Il primo Cerimonia Nella zona I Tre Ponti Con gli allievi Del Montessori E del Cecchi E dunque Vedete il sindaco Che ha piantumato Il primo albero Di fronte Ai bambini Incuriositi Che appunto Erano presenti Prezzo politico Siamo sulla valle Del Cesano Per le case abbandonate La vendita A favore Delle giovani coppie Il sindaco Sebastianelli Siamo a San Giorgio Di Pesaro Spiega la straordinaria Operazione Garantiti A norma Di legge I diritti Di tutti Per illustrare Il progetto Oggi interviene Maddalene Esponente Emerito Della consulta E vedete Uno degli immobili Di San Giorgio Da recuperare I babbi natali Quest'anno Cambiano percorso La corsa Del 18 dicembre Parte da San Giorgio E arriva A San Costanzo Passaggio a livello Da Marotta Troppi segreti Della giunta Pressing dei 5 stelle Per le trattative In corso Ci riferiscano Sugli incontri Con le ferrovie I consiglieri Temono Un accordo Peggiorativo Rispetto a quello Del precedente Sindaco E Pergola Invece promuove Il turismo In plein air Confermato il raduno Dei camper Per Cioccovisciola Le prenotazioni Entro Mercoledì Senigallia Risonanza Magnetica In cantina Colpa Della variante Che non si fa Il macchinario È stato acquistato Nel 2014 Ma in ospedale Non c'è un locale In grado Di ospitarlo E tempi lunghi Perché l'ufficio Tecnico di Senigallia È subordinato A quelli di Iesi E Fabriano L'ultima pagina Stop alle bravate Sui binari Ecco le barriere Anti rumore Selfie estremi Il sindaco Di Senigallia Annuncia lavori Per 5 milioni di euro Tutte a carico Di reti ferrovie Italiane Ci fermiamo qui Con la rassegna stampa Del mattino Grazie per la vostra Cortese attenzione Vi auguro una buona giornata E vi do appuntamento Questa sera Alle 20.30 Con il telegiornale Occhio alla notizia Arrivederci